bene questo è il rusco venne della bocca rusco centella vite rossa e amamelite per il microcircolo delle gambe avvertenze a bocca.it la produttrice per un sepolcro l'esercizio questa è la composizione e questi gli effetti amamelite vite rossa piante che svolgo una verificazione dovrebbe essere le gambe questa è la foto poi abbiamo preso invece la collina organica di william reich vedete materiale da resina e frammenti metallici influenza dell'intero universo di adli dadli orgone william reich prodotto da bio luce